Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Pescara da dove arrivano buone notizie per la pineta d'Annunziana colpita lo scorso primo agosto da un grosso incendio. Arrivano i soldi della regione e quelli raccolti con il festival d'Annunziano. I dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Presidente Sospiri, buone notizie per la pineta d'Annunziana di Pescara. Sono stati raccolti dei fondi e poi tra qualche mese si riaprirà al pubblico questo polmone verde della città. Come sapete noi abbiamo avuto questo terribile incendio del primo di agosto per tutti i pescaresi, per tutti gli abruzzesi è una ferita ancora aperta e sanguinante perché oltre che la pineta d'Annunziana sono stati colpiti altri luoghi d'Annunziani, Ortona, la costa dei Trabocchi con ingenti danni sia ai patrimoni ambientali ma anche alle aziende agricole. Noi abbiamo subito approvato una norma da 3 milioni e 400 mila euro. Le 400 mila euro per le somme urgenze che i comuni hanno affrontato sono state già distribuite e i 3 milioni di euro saranno al fondo a disposizione per i danni agli agricoltori, ai vigneti, agli oliveti, a tutte le attività agricole che sono state colpite. In quel periodo dovevamo organizzare il Festival d'Annunziano. Noi siamo posti il tema, se era fosse giusto, fallo, c'è sempre questo equilibrio tra ciò che ti porta in termini di economia di ricaduta turistica, una grande manifestazione culturale all'esigenza del momento. Abbiamo trovato un punto di mediazione di un festival tra l'altro molto 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 riuscito che ha generato grande consenso, non potevamo mettere gli eventi a pagamento, non volevamo tenerli gratuiti, li abbiamo lesi condizionati a una liberalità di chi voleva vedere gli spettacoli. Questo ha prodotto un gettito a cui si è aggiunta un'ulteriore sponsorizzazione di alcune tra le società presenti all'interno delle sponsorizzazioni del festival e più uno sforzo fatto da tutto il Consiglio regionale che con le sue economie di corretta gestione ha creato un fondo da 80 mila Euro che oggi con i colleghi presenti consegneremo al Sindaco di Pescara. Se non sbaglio è la cifra necessaria per riaprire e rendere fruibile la pineta. Ovviamente poi ci occuperemo di tutti i fondi necessari per farla rinascere completamente e di tutti i fondi necessari come protezione civile per acquistare mezzi che permettano che quello che è accaduto non debba ripetersi. Sindaco, dopo quanto è accaduto il primo agosto c'è stata subito una presa di coscienza di tutta la politica, di tutte le amministrazioni locali, proprio sull'importanza di poter riaprire al più presto la pineta denunziata. Purtroppo il dolore è stato tanto ed è stato il dolore di tutti i cittadini pescaresi e non che sono intervenuti il primo agosto proprio per cercare di salvare il salvabile in una situazione drammatica quale quella che abbiamo vissuto e dal giorno stesso abbiamo cominciato a lavorare per la sua rinascita. Abbiamo creato questo gruppo di lavoro formato da esperti, associazioni ambientaliste, personaggi autorevoli della nostra città, senza colore politico, comunque con il coinvolgimento di tutte le parti politiche e anche dell'opposizione, perché la pineta non è di una maggioranza o di un'opposizione, la pineta è di tutta la città di Pescara e della regione Abruzzo, perché quella è una pineta integrale, è la riserva d'Annunziana, quindi è veramente il nostro cuore, è la nostra storia, è la nostra tradizione, è il nostro sentimento. Quindi lavoriamo adesso per riaprire i comparti 3 e 4 con il contributo regionale importante derivante dal festival di Annunziano, quindi contribuzioni di persone comuni, questa è la cosa più bella. Poi abbiamo l'intervento che faremo all'interno del comparto 5 di pulizia con le risorse che abbiamo noi come comune messo a disposizione e anche quelle derivanti da contributi dei cittadini sul conto corrente del comune. Dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha deciso che la proroga delle concessioni balneari sarà possibile solo fino a dicembre 2023, oggi c'è stato un importante incontro pubblico a Pescara. Andiamo a vedere. Padovano, oggi una grande assemblea pubblica a Pescara con tutte le associazioni, ma con la politica per dire no a questa sentenza del Consiglio di Stato? Ma non per dire no alla sentenza del Consiglio di Stato, ma come si può fare? Io ho un'attività economica, insieme a mia figlia ne abbiamo due, che abbiamo fatto una pianificazione in base alla concessione che ci è stata rilasciata nel 2019. Abbiamo dovuto registrare perché è un atto pubblico, dopo tre anni mi si dice che quell'atto è nullo e quando francamente ho qualche difficoltà. Ho pianificato per quest'anno una ristrutturazione di tutte e due le strutture balneari, perché questo modo di consentirci un periodo più lungo ci consente di pianificare degli investimenti. Praticamente a questo punto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, noi rimaniamo bloccati. La domanda mi pongo, ma io a chi devo sentire? A chi devo dare retta? Al Parlamento, al Consiglio di Stato, al TAR, alla Corte Costituzionale? Non lo so, io faccio l'imprenditore, io sono un imprenditore e devo fare questa attività, ne posso fare né lo parlamentare, né l'ingegnere, né l'avvocato né tantomeno il giurista, non è una questione che riguarda me, la politica si assume adesso il problema, ritorni a fare politica con la P maiuscola e dica che ogni istituzione deve fare la propria istituzione, da come stanno dicendo i parlamentari confermano quello che diciamo noi, non può essere il Consiglio di Stato che ci detta le leggi, è il Parlamento che le mette in funzione. La Regione Abruzza ma anche la cooperativa balearia degli stabilimenti baleari di Pescara insieme alla Regione Abruzza hanno impugnato questo provvedimento, soltanto che poi manco ci hanno dato l'opportunità di poter, non ci hanno manco ammesso e questo è già grave perché non è pensabile tenere fuori le imprese, la Regione stessa che è portatrice di un provvedimento, attenzione che quel provvedimento che ha fatto la Regione l'ha fatto in funzione di una legge, non è che la mattina si è alzata Marsiglio e dice faccio la legge, rinnovo le congestioni maniali perché tanto comando io, non è così, lo ha fatto in funzione della 145, è una legge dello Stato. Voltiamo pagina, sono scaduti ieri mattina i termini per presentare le candidature alle prossime elezioni provinciali, saranno ancora una volta elezioni di secondo livello a cui prenderanno parte gli amministratori dei comuni delle quattro province, i quali saranno chiamati alle urne il prossimo 18 dicembre, vediamo. Non due ma bensì tre candidati alla corsa per la presidenza della provincia di Pescara. A Ottavio De Martinis per il centrodestra, sindaco in quota Lega di Montesilvano e Alessandro Dascagno per il centrodestra, sindaco del Partito Democratico di Rocca Morice, si è aggiunto al fotofinish Vincenzo Catani, sindaco di Picciano, sostenuto dalla lista Polo Civico Futura, organizzato da Dorato Di Matteo e dall'ex leghista Gianfranco Giuliante. La vittoria di De Martinis sembra cosa certa, ma l'elezione del nuovo presidente passa per i rimpassi di giunta di Pescara e Montesilvano. Ottavio De Martinis deve sistemare le cose in giunta nominando tre assessori di Fratelli d'Italia, allo stesso modo il sindaco di Pescara Carlo Masci, dove la Lega preme per inserire la sua Maria Rita Carota al posto di Maria Rita Paoni Saccone di Fratelli d'Italia. Proprio per questo il nome di Enzo Catani sarebbe un'alternativa di rilievo. In provincia dell'Aquila è corsa a due per la presidenza, in campo Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente uscente che cerca il bis a capo di due liste di centrodestra e l'outsider Vincenzo Giovagnorio, rieletto alla guida di Tagliacozzo, sostenuto da una lista di aria civica e centrosinistra e fortemente voluto dal sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, attualmente sospeso. Anche qui il centrodestra sembra già avere in tasca la vittoria, dato che la maggioranza del comune di L'Aquila, in primis il sindaco Pierluigi Biondi, si è stretto attorno al nome di Caruso. Due le liste per il centrodestra e due per il centrosinistra sostegna dei rispettivi candidati alla presidenza di Chieti, Filippo Paolini e Francesco Menna. Il primo è stato eletto, primo cittadino di Lanciano e punta come tutto il centrodestra sul malcontento generato dalla precedente amministrazione provinciale. Il secondo, rieletto nella città di Vasto, punta sull'alleanza stretta con gli amministratori di Chieti per dar seguito alla precedente amministrazione targata a pupillo. Si vota anche in provincia di Teramo, dove ci sarà da rileggere però solo il Consiglio e non il Presidente, dato che il mandato di Diego Di Bonaventura, attuale primo cittadino di Notaresco, scadrà nel 2023 e che dopo le votazioni potrebbe ritrovarsi una maggioranza diversa dal suo credo politico. Il centrodestra ha presentato una lista civica per Diego Presidente, ispirata dai tre maggiori partiti nazionali e dove all'interno ha trovato posto anche il Sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. La Casa dei Comuni è la lista civica del centro-sinistra, che ha trovato la quadra con il Movimento 5 Stelle, ma non con Italia Viva. Sono scesi in campo anche Giulio Sottanelli e Paolo Gatti, i quali hanno presentato la lista ai liberali europei. Ed ora la cronaca non ce l'ha fatta la 21enne di Marana, frazione del Comune di Monte Reale in provincia di L'Aquila, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada 17 Ter, nota come superstrada di Bazzano, nella zona est dell'Aquila. La giovane è morta nella notte nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Era alla guida dell'auto una Kia che intorno alle 14.30 si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi in prossimità di una curva all'altezza di un distributore di carburanti, con ogni probabilità a causa dell'asfalto bagnato. Gli altri due passeggeri, un 18enne di origine romane e un 22enne originario di Como, amici della vittima, hanno riportato solo lievi ferite e sono ora in stato di shock. E noi proseguiamo con la cronaca perché è ritenuto il responsabile dei tre rapine di cui due ai danni di minorenni commesse a Pescara. Si tratta di un 19enne finito nelle ultime ore. In manette vediamo. Individuato dalla Polizia di Stato di Pescara, l'autore di alcune rapine commesse in città negli ultimi giorni, ai danni anche di minorenni e che avevano creato allarme sociale in città. In manette è finito un 19enne per rapina aggravata e tentata rapina. Per il giovane, il PM della Procura di Pescara De Lucia aveva richiesto l'arresto che è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale. I dettagli dell'operazione sono stati forniti questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal dirigente della squadra mobile di Pescara Gianluca Di Frischia. Ci sono stati tre episodi distinti per un totale di quattro vittime di rapina da parte di questo soggetto, di questo aggressore armato di coltello, ai danni di alcuni giovanissimi perché due di questi erano addirittura minorenni e in particolare mirati alla consegna dei loro cellulari. In uno di questi episodi l'aggressore ha attinto con un fendente, uno dei ragazzi, un ragazzo di 22 anni, alla spalla. All'arresto si è arrivati con dei servizi mirati, proprio partendo dalle descrizioni che, seppur generiche, avevano dei tratti in comune, delle peculiarità che appunto rendevano la cosa diciamo anomala e per cui abbiamo subito, siamo andati subito per strada con dei servizi mirati in determinate zone, sperando e sapendo che avremmo potuto poi trovare questa persona anche perché da quello che ci risultava avrebbe potuto agire nuovamente. Voltiamo pagina, torna a Teramo la sesta edizione del Follemente Festival dal 2 al 4 dicembre dedicata alla bruzzesità della follia. Ci sarà anche l'apporto dell'Asle di Teramo sui temi dei disturbi neuropsichiatrici nei bambini e sull'alimentazione. Consapevole, Tania Bonnici Castelli. Con il Covid i disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva sono aumentati e quando già esistevano si sono seriamente aggravati. Un problema che sarà affrontato a Teramo dal 2 al 4 dicembre nell'ambito del Follemente Festival, una kermesse multiculturale giunta alla sua sesta edizione che vedrà l'apporto scientifico dell'Asle di Teramo sul tema della follia ma anche di autori, musicisti, creativi social, figli d'Abruzzo che animeranno pomeriggi e serate alla sala ipogea. Parlare di follia è sempre una cosa un po' difficile. Di cosa parleremo in questi giorni a Teramo? Parlare di follia è strano perché io per esempio c'è un concetto diverso che la follia non esiste e che tutti quanti abbiamo un po' di follia quindi la normalità non esiste anzi. Noi abbiamo visto che per esempio negli ultimi due anni addirittura le prestazioni presso la neuropsichiatrici in ventile di Teramo si sono addirittura raddoppiate. Questo significa che il periodo del Covid e anche della chiusura, del lockdown ha creato sicuramente delle grosse problematiche soprattutto per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti. Questo evento è un evento anche importante perché in qualche modo è un evento che ci porta e la controprova di quello che sta succedendo della neuropsichiatria in ventile di Teramo. La collaborazione col Bambin Gesù di Roma è una cosa molto importante perché in qualche modo permette di fare una formazione adeguata per tutti gli operatori che lavorano in neuropsichiatria infantile e non solo anche per i dirigenti ma anche i medici che lavorano lì e creare anche dei percorsi assistenziali proprio per gli adolescenti e per i minori molto più adeguati rispetto a quelli che sono anche la luce della carenza di posti letto nella regione Abruzzo. Il Follemente Festival si concluderà con un convegno all'Università di Teramo a cura del Dipartimento di Salute Mentale sull'alimentazione consapevole. Un'alimentazione che fa bene al corpo ma soprattutto alla mente. Noi mangiamo, qualche volta ci abbuffiamo eccetera eccetera, forse mangiare in maniera consapevole potrebbe essere utile non solo per il nostro corpo ma anche per la nostra mente. In qualche modo questo è un evento che sarà molto carino perché ci saranno anche delle esperienze da fare in quell'occasione portandosi addirittura, si invitano i partecipanti a portarsi dietro addirittura dei cioccolatini, dei roba salata eccetera, quindi sarà un evento veramente molto molto importante. La sessione culturale del Follemente Festival di Teramo vedrà protagonisti gli scrittori Marcello Veneziani, Remo Rapino e Giordano Bruno Guerri e chiuderà in bellezza con il concerto del pianista Antonio Sorgentone. Tante le iniziative in cantiere a Chieti per il primo weekend di dicembre e in prospettiva per il Natale. L'assessore al commercio Manuel Pantalone illustra i progetti dell'amministrazione con la speranza che la pandemia possa dare una tregua. Paolo Renzetti. Assessore si avvicina il Natale però siamo a fine novembre, insomma sono tante le attività che state mettendo in campo anche nella settimana del Black Friday. insomma la città di Chieti, il centro di Chieti è molto vivo in questi giorni. Sì, il confronto con la categoria è costante, abbiamo dato vita a numerosi mercatini in città proprio per favorire il commercio, per favorire il lavoro delle attività commerciali della nostra città. Con la categoria è in essere un tavolo permanente che abbiamo istituito sin da quando ci siamo insediati e sta dando i suoi frutti. Abbiamo già diverse iniziative programmate ma anche con un'ottica all'inizio del nostro nuovo anno, quindi stiamo già guardando in prospettiva. Per quello che riguarda questo periodo ci auguriamo che possa davvero essere un periodo natalizio foriero di consumi e di rilancio per le attività della nostra città. Già le presenze che stiamo registrando in città in maniera così numericamente sostenuta ci fanno ben sperare. Stiamo anche ragionando in queste ore, come abbiamo fatto sin da subito, ma insomma in una progressiva attuazione di quello che è il piano commercio in vigore e proprio colui che l'ha redatto, l'architetto Perinelli, ci riconosce questa costante attuazione un passo alla volta proprio perché crediamo che la città debba ripartire su basi solide e insieme al contesto sicuramente di fruibilità cittadina c'è però quello delle presenze nel centro storico e nel centro urbano e della valorizzazione dei quartieri. Riteniamo che tutte queste iniziative messe in campo possono davvero dare un sostegno al tessuto economico cittadino e ci fa piacere vedere che la categoria collabora a pieno titolo a questo percorso di rilancio. Assessore, tra meno di un mese è Natale, ci sono delle iniziative che vi avete in cantiere, però c'è anche l'incognita dell'emergenza sanitaria della pandemia. Ovviamente ci auguriamo che possa essere un Natale pienamente fruibile per i cittadini e speriamo che, come sta peraltro procedendo in maniera spedita la campagna vaccinale, possa vedere un raggiungimento delle terze dosi sempre più massiccio in maniera tale da respingere ogni forma di chiusura bene il Super Green Pass, bene misure che favoriscono la campagna vaccinale e favoriscono gli acquisti in sicurezza. Apriamo ora la pagina dedicata allo sport, doveva essere la domenica del riscatto per il Pescara, invece i Biancazzurri non vanno oltre lo 0-0 all'Adriatico Cornacchia contro la Lucchese. Nel finale anche una rissa e un rosso a rizzo, ma il presidente Sebastiani conferma Oteri sulla panchina del Delfino. Vediamo. Il Pescara rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria e perde la testa nel finale di partita chiudendo il match in nove per i rossi a Drudi, fallo da ultimo uomo, e Rizzo fallo a gioco fermo su un avversario. Il finale di partita fotografa il momento di una squadra quasi allo sbando e vittima dei suoi limiti, con la contestazione dei tifosi che non ha risparmiato davvero nessuno. Auteri però resta al suo posto, come detto dal presidente Sebastiani al 91esimo. La Lucchese senza strafare porta a casa il punto che voleva, dopo 90 minuti di poca sofferenza. Pescara che illude al primo minuto con Veroli che in area scarica da ottima posizione su Coletta che respinge. Poi solo tanto possesso palla dei padroni di casa, ma zero occasioni. Il Pescara fa quello che può, ma per l'estremo difensore della formazione toscana nella prima frazione di gioco c'è davvero poco lavoro. Nella ripresa Pescara in campo con Ferrari al posto di un Rauti evanescente. All'ottavo minuto l'attaccante pescarese cade in area con l'arbitro che prima indica il dischetto e poi ci ripensa e assegna la punizione alla Lucchese per l'offside dell'attaccante pescarese che aveva commesso anche fallo su un avversario. Al tredicesimo minuto Ferrari ci riprova di testa mandando il pallone di un soffio a lato. Poi solo tanta confusione e nervosismo con gli abruzzesi ad attaccare a testa bassa senza costrutto. Da segnalare solo un tiro di Dursi di pochissimo fuori. Al trentaquattresimo Auteri opera diverse sostituzioni ma in campo non accade nulla. prima di un finale di partita indecoroso con una maxi rissa finale in campo e che vede l'espulsione prima di Drudi per fallo da ultimo uomo e poi di Rizzo nella mega rissa finale che coinvolge giocatori delle due squadre. Punto meritato per i rossoneri di Pagliuca che allungano la serie positiva confermando l'ottimo momento in stagione per il Pescara. Un'altra gara da dimenticare con la classifica sempre più anonima e con la gara di domenica prossima in casa del Grosseto che metterà in palio punti pesantissimi. In terra maremmana, in panchina ci sarà Auteri. Il Pescara avrà diverse assenze ma questa volta non si potrà davvero sbagliare il rischio e di finire nel baratro di una crisi senza fine. Non ci saranno novità perché da oggi in poi io non prenderò più nessuna decisione. Visto che devo andare via è giusto che chi arriva prenderà le decisioni conseguenti. Ho detto già dei tuoi colleghi, io da questa sera le mie quote sono a disposizione di chi vorrà e potrà prendersene perché purtroppo chi parla senza sapere, senza conoscere, deve sapere che ci sono delle regole. Quindi io le quote, siccome è una SPA che non è che fa la produzione di bibite ma gioca a calcio ed è affiliata a una federazione, siccome ci sono delle regole c'è bisogno di gente che venga, sia accettata dalla federazione, rilasci le garanzie che oggi sono a mio nome e domani saranno a nome di qualcun altro e io sono a disposizione ma da questa sera perché io di venire allo stadio e prendere offese personali da gente che non sa nemmeno di che cosa parla, mi sono rotti i coglioni ma nel vero senso della parola. Credo che vada aiutata la squadra e in questa situazione qua anche la squadra ne risente perché purtroppo giocare in questo clima è come giocare fuori casa o peggio ancora in un clima ostile e poi è chiaro che la palla pesa di più. Io ho messo a disposizione le mie quote, qualcuno che contesta dovrà metterci anche la faccia perché mi dovrà portare qualcuno che compra il Pescara e io sono a disposizione. Però è inutile che continuiamo a fare le chiacchiere perché poi le chiacchiere non è che qui sembra quasi che io rompi le scatole a qualcun altro e forse sono arrivato al punto che sono io che mi sono rotte le scatole. Quindi diciamo che da questo punto di vista io sono a disposizione, non è che devo stare nel Pescara. Io per fortuna, per mia fortuna, ho sempre lavorato e quindi vivo di altro, non di Pescara. Credo che questa squadra tutto sommato abbia i mezzi per riprendersi perché non credo di aver costruito una squadra che non può giocare a calcio, d'altronde oggi mi sembra che non abbiamo preso manco un tiro in porte, quindi tutto sommato se la Lucchese ha i nostri stessi punti e non abbiamo rischiato nulla vuol dire che il Pescara la sua parte l'ha fatta, sicuramente a tutti quanti noi dispiace, a tutti quanti noi vorremmo vedere il Pescara vincere perché ha i mezzi per farlo. In questo momento non ci si riesce, speriamo che trovino le soluzioni i giocatori e allenatori per uscire da questo momento difficile. La settimana terribile del Teramo dopo le vicende societarie si chiude con una vera e propria debacle. A Carrara 4-0 per la squadra di Natale, diavolo che resta nella parte calda della classifica. Agna Cantagalli. Il Teramo chiude una settimana di vicende extracampo come peggio non avrebbe potuto. La formazione di Federico Guidi incassa un 4-0 in casa della Carrarese che dice tutto, mettendo davvero poco in campo se non ad inizio gara. Il tecnico sorprende lanciando dal primo minuto tra i pali Perucchini che fa il suo esordio in bianco-rosso vincendo il ballottaggio con Agostino. In difesa torna soprano al posto di Bellucci mentre più avanti è tutto confermato. Anche nella Carrarese ci sono sorprese con Giannetti che non va nemmeno in panchina e con Totò di Natale che sceglie per l'attacco mezzi punte per comporre il reparto avanzato. Il Teramo parte bene e ha occasione di inizio gara che con il senno di poi peseranno sull'arco della gara perché non concretizzate. Inizia Mungo che dopo aver scambiato con Malotti va via bene a tre in aria e prova poi a piazzare sul primo palo mirando invece all'esterno della rete. Due minuti più tardi rosso serve Bernardotto che dalla distanza non trova lo specchio. La Carrarese non riesce a rispondere così il Teramo va ancora vicino al gol al tredicesimo quando a Ziozmanovic serve Bernardotto in aria ma la conclusione dell'attaccante finisce sul fondo. Diavolo un minuto dopo ancora pericoloso. Bernardotto ci prova un paio di volte e sul secondo tentativo trova sulla linea di tiro Malotti che controlla ed in semirovesciata chiama alla parata Vettorelle. Dauri al diciassettesimo dà cenni di risveglio dei suoi Carrarese che mano a mano sembra trovare le misure e riuscire ad arginare il Teramo. I campi toscani anche se in erba sintetica si confermano comunque poco fortunati per i biancorossi perché Viero si fa male e dal ventiduesimo Lombardo ne prende il posto andando a posizionarsi sul versante destro di difesa. A Ziozmanovic di conseguenza si posiziona sulla mezzala sinistra. Al trentaseiesimo la Carrarese fa tutto bene per portarsi dalle parti di Perucchini ma Energia nel momento decisivo non trova la porta. Al trentasettesimo protesta in casa biancorossa per un Bernardotto chiuso in area. Arrigoni e compagni vorrebbero il calcio di rigore e il direttore di gara non la pensa allo stesso modo e fa proseguire. I marmiferi passano prima di rientrare negli spogliatoi. Al quarantaduesimo a metterci una pezza e Perucchini chiudendo di piedi la conclusione ravvicinata di Battistella servito da Dauria. Lo stesso numero dieci della Carrarese al quarantatresimo fa partire un cross che Perucchini questa volta non legge bene facendosi scavalcare e non trovando nessun avversario a toccare. I padroni di casa così festeggiano il vantaggio. La ripresa è tutt'altro che uno spot di reazione del Teramo. All'ottavo infatti la Carrarese trova il raddoppio. Da un calcio di punizione di Dauria Marino fa da sponda per un altro colpo di testa quello di Figoli che deposita alle spalle di Perucchini. Qualche istante dopo i padroni di casa hanno un'altra chance e protestano per un presunto fallo di mano di Piacentini in piena area su cui la Terna fa invece proseguire. All'undicesimo ancora marmiferi con Luci che dagli sviluppi di un calcio d'angolo fa partire un tiro che si stampa sul palo forse con leggera deviazione di Perucchini. Guidi prova a cambiare qualcosa facendo entrare montaperto in dreca per Lombardo e Rillo ma a farla da padrone è sempre la Carrarese. Al quarto d'ora Dauria incontenibile si fa toccare in area da rosso. Questa volta è sì rigore per il direttore di gara. Mazzarani va dal dischetto e trasforma spiazzando il partire del Teramo e siglando il 3-0 per la Carrarese. Dauria al 24esimo la doppia chance sulla seconda opportunità non inquadra la porta da buona posizione. Teramo sa che la gara è ormai compromessa ed il tentativo di Mungo al 27esimo della distanza è solo l'occasione estemporanea. La Carrarese in ripartenza va vicino al poker con Galligani servito labbravante ma la conclusione è troppo centrale con Peruchini che para senza problemi. Dall'altra parte Andreca prova a servire Mungo in aria. Il centrocampista impatta di testa ma non angola abbastanza per mettere in difficoltà Vettorel. Subito dopo ancora Marmiferi. Battistella in ripartenza serve Galligani che da buona posizione non concretizza l'azione del compagno. Il poker arriva comunque nel recupero quando Galligani trova in ripartenza il gol che stava cercando dal momento del suo ingresso in campo. Sempre Galligani al 93esimo va vicino alla doppietta dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Per il teramo arrivano così i definitivi titoli di coda al termine di una prestazione insufficiente e con un'altra trasferta all'orizzonte, quella in casa del Ponte d'Era. La classifica invece si fa sempre più preoccupante con il diavolo che scende al 17esimo posto e con chi è alle spalle a trovare punti importanti. Ed in Serie D va il notaresco, l'unico scontro tutto abruzzese della giornata numero 11 del Girona F. Di Serie D, Maio e Valenti inguaiano ancora di più un Chieti che non vince dalla terza di campionato. Vediamo. Ancora una brutta prestazione contestata dai tifosi a fine gara condanna il Chieti alla sconfitta, l'ennesima tra le muramiche con l'Angelini che resta sempre di più un tabù per Aquilanti e soci. Al notaresco invece bastano 10 minuti di inizio gara per mettere in cascina i tre punti. Lucarelli conferma in blocco l'undici che sette giorni fa è uscito indenne dalla sfida contro la San Benedettese. Torna a disposizione Fabrizi ma il tecnico neroverde preferisce non rischiarlo dall'inizio. Sul fronte opposto torna tra i pali Schiba, vanno in panchina gli altri due recuperati, Bruno e Pampano mentre Speranza accusa un problema muscolare nelle ultime ore e al suo posto c'è Lopez. Nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna e il notaresco passa già a condurre. Palla persa dai neroverdi sull'out di destra, Scimia ne approfitta e mette dentro trovando l'incertezza di Fusco. Maio da quelle parti una sentenza e con freddenza mente in fondo al sacco. Grande gioia per l'attaccante che raggiunge quota 7 reti in campionato. Il Chieti nei primi dieci minuti non riesce mai ad avvicinarsi dalle parti di Schiba. Allora gli ospiti approfittano dell'approccio negativo dei neroverdi e trovano il raddoppio al dodicesimo. Calcio di punizione perfetto di Valenti che azzecca la triettorre e trafinge l'incrocio dei pali. Fusco, quinta rete stagionale per lui. Notte fonda per i padroni di casa che hanno un sussulto prima del ventesimo. Duettano bene al limite dell'area di rigore a Cammado e Rodia con quest'ultimo liberato davanti a Schiba ma che incredibilmente mette fuori. Rumoreggia l'Angelini che si arrabbia tantissimo qualche minuto più tardi quando Aquilanti perde la sfera e apre un'autostrada per Maio che riesce a dedudere l'intervento di Fusco ma poi è costretto a tornare all'indietro ed appoggiare al neoentrato Massetti il quale però trova la deviazione della difesa. Chieti in evidente difficoltà ha l'occasione per riaprire l'incontro sul tramonto del primo tempo. Errore in uscita del notaresco che spiega la strada alla ripartenza neroverde con la sfera che arriva sul secondo palo dove l'appostato di Mino spara addosso a Schiba. Il pallone arriva al limite dell'area ma la conclusione precisa di Mariani fa solo lo barbalbalo. Lucarelli prova a cambiare qualcosa inserendo Meli al posto di Verna. Monito e l'inizio di ripresa vede in campo un Chieti di tutt'altra caratura che si rende pericoloso al decimo minuto. Pallone messo dentro con i giri giusti da Pietrantonio su cui Fabrizzi in eontrato arriva con qualche pizzico di ritardo. Notaresco in campo con atteggiamento rinunciatario rischia di subire gol al quarto d'ora quando a Cammado al centro dell'area di rigore si esibisce in una bella rovesciata che però termina fuori. Spingono i padroni di casa i quali protestano con il direttore di gara quando ventola va giù in area di rigore ma Balducci di Empoli ad ampi gesti dice che si può proseguire. Il Chieti in avanti apre praterie per il notaresco ed ha proprio in una di queste che ci si butta Valenti bravo a premiare l'inserimento di Massetti che trova la risposta a terra di Fusco a dirgli di no poi l'azione viene interrotta per fuorigioco. Il Chieti meriterebbe la rete ma è ancora sfortunata quando Fabrizzi con una bella deviazione volante chiama agli straordinari Sciba che chiude a doppia mandata la porta dicendo do ad una conclusione ravvicinata scaturita da azione d'angolo. Prima del finale da segnalare l'espulsione per doppio giallo ad A Cammado che fa scendere i titoli di coda su una prestazione ancora scadente del Chieti che al 45esimo esce tra i fischi dei tifosi della Curva Volpi. Nel dopogare Trevis sanno da confermare la fiducia nel tecnico Luca Relli ed un ritorno imminente sul mercato. Tre punti fondamentali invece per il notaresco che torna alla vittoria e conferma l'ottimo trend in trasferta. Io vi ricordo il consueto appuntamento del lunedì alle ore 21 con replay a trasmissione di Enrico Rocchi per analizzare il momento del Pescara. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!